Ciao a tutti amici di Tecnologia Su Misura approfitto di questa occasione per mostrarvi un servizio web che ho scoperto da pochissimo ma che ritengo molto interessante infatti sostanzialmente questo servizio web in modo del tutto automatico fa un po' quello di cui ci occupiamo noi cioè voi definite un budget e questo programma vi restituisce una serie di componenti hardware già tutti compatibili tra di loro e diciamo della qualità massima possibile quindi andrei velocemente a vedere come funziona questo sito si chiama Pangoli ed è raggiungibile a www.pangoli.com sostanzialmente andrete qui a cliccare su configurare il tuo pc avremo a disposizione delle build già predefinite in base alla fascia di prezzo come potete vedere c'è quella che va da 260 euro fino a quella più costosa e poi addirittura potete comunque verificare tutte le build e a quel punto il prezzo cresce diciamo alla cifra che voi preferite noi comunque andiamo qui a cliccare ad esempio su questa configurazione la PRO da 1100 euro e come potete vedere ci vengono proposte tutta una serie di possibilità infatti potremmo scegliere ad esempio la scheda madre che preferiamo in questo caso magari per scelta non ci piace questa Asus Z97 Pro e preferiamo acquistare questa MSI Z97 M Power che ci fa risparmiare l'1% del prezzo totale e ha una valutazione di 93 infatti questo sito diciamo permette di raccogliere anche sia i pro e i contro di un componente hardware ma anche una valutazione complessiva il processore ci va bene questo 4790K possiamo ottenere naturalmente questo scegliamo una 770 come scheda video ad esempio possiamo anche variare l'alimentatore e così via insomma è da notare che tutto l'hardware che viene presentato e che possiamo scegliere viene garantito che sia compatibile con tutto il sistema complessivamente quindi adesso velocemente scendo naturalmente potremo anche scegliere mouse, tastiere, monitor e così via noi andiamo su avanti a questo punto abbiamo un riepilogo della configurazione e ci viene naturalmente esposto il costo totale e la cosa interessante è che appunto questo sistema appoggiandosi al database Amazon una volta che avremo scelto tutto l'hardware potremo tranquillamente procedere al checkout direttamente su Amazon con tutta la lista già predefinita voglio sottolineare che naturalmente questo sito è gratuito e sostanzialmente penso che il guadagno si basi con un sistema di partnership con Amazon infatti se voi comunque acquistate tutto l'hardware tramite questo sistema farete guadagnare una piccola percentuale a questo sito bene, abbiamo concluso con questa panoramica su questo servizio web che ritengo davvero molto utile e molto interessante vi consiglio a tutti di darci un'occhiata e di costruirvi la vostra configurazione ideale nel frattempo vi ringrazio per averci dedicato il vostro tempo un saluto a tutti da Valerio